Allora, oggi vi faccio vedere come arrivare da questo a questo. Allora, la cosa è che ci vorrà un sacco di olio di gomito, però il risultato effettivamente è sbalorditivo e ne vale veramente la pena. Quindi, diamoci da fare. Allora, la prima cosa che bisogna fare è usare della carta vetro. Io ho preso dei fogli di riserva, noi partiremo con una 600, poi un 800, una 1000, infine una 1200 e poi useremo questa cosa con questa pasta. In ogni caso, io ho un po' di carta vetro già tagliata, l'ho utilizzato ieri, quindi partirò con quella. Ok, il mio consiglio è usare un foglio proprio singolo, perché se lo usate doppio vi si incasina un po' tutto. Poi bagnatelo, mi tengo qua un catino per comodità, perché almeno ce la puccio, la sciacquo, la lavo tutto, eccetera. E poi con questo qua, che si sta sporcando come non so cosa, lo passo per pulire, diciamo. Queste sono le condizioni del tilaio dopo che ci ho passato fior di 280. Perché ho cominciato con la 400, mi sono resa conto che non bastava, quindi sono passata la 280 e se notate, tipo qua ci sono ancora un po' di pallini, questo qua non riesco a farlo venire via neanche a morire. Idem questi qua in questo angolino, però va bene, facciamolo andare bene perché sennò divento matta. Dopo la 280, dicevo, dovremmo usare la 360. 3,60, che bella. Nel frattempo vi aggiorno su quello che ho fatto e che intendo fare su stamato, oltre al telaio lucido ovviamente. Allora, innanzitutto ho appena sentito Theodore Racing perché mi devo far anodizzare alcuni pezzi in viola da loro. Per fortuna lo fanno ancora perché penso che siano gli unici in Italia a fare anodizzazioni, seriamente. Ho chiamato quasi tutti, a parte oltre a NRteam, che però NRteam non fa esattamente la quantità di colori, il valore di TV che fa Dedo. E manderò tutto da lui, tutto inteso. I mozzi, che però non so se me li può fare viola perché dipende da che lega sono fatti. O se sono dal pieno, in realtà. E i canali. Poi gli manderò le piastre che ho già smontato. Gli manderò questo tappino e questo tappino qui. Di là ce ne sono altri due, no, forse uno. E poi sempre da mandare a Dedo c'erano la pedalina, quella di accensione di là, la pedalina del cambio. Questa pedalina qua dove appoggio i piedi, idem quella dall'altra parte. Le leve, prena e frizione. Sarà una grandissima figata, spero che siano rapidi, mi rimandano tutte in fretta così le posso rimontare. Oggi vado a portare i ceriti dall'usomista così mi faccio togliere la parte in gomma. Non vedo l'ora di vederla finita. Anche perché mi fa un po' male vederla in questo stato. Comunque vi faccio notare il mio cavalletto, che ora è in condizione pietosa perché ci sto sgozzolando da ore. Però è un cavalletto che mi ha mandato uno sponsor, che è 24MX. Non so se li conoscete ma sono un'azienda super seria, super figa. Adoro ordinare cose da loro, ci ho anche preso il capricella, che è non sponsorizzato. Comunque parlando di 24MX, con gli ordini sono davvero carinissimi. Ti mandano proprio tutto il tracking della spedizione, eccetera. Tengono un sacco di cose e i loro sconti sono veramente sconti seri. Nel senso che i caschi, con i prezzi che trovate da loro, non si trovano da nessun'altra parte. Purtroppo spesso il limite è la misura, perché magari non c'è la vostra. Almeno, dico, la mia ad esempio è un XS. E la mia, quando loro erano scontati, magari c'era una L, un XL e basta. E quindi non ho potuto prenderlo da loro. Alla fine l'ho preso da Outlet Moto, il casco, ma lo adoro. Comunque loro mi hanno mandato, come sponsorizzazione, questo caballetto. Una mascherina della Raven, che adoro, tra l'altro. L'ho già provata quando il ragazzo che possiedeva sta moto prima mi ha portato a fare un giro. Nika Kaza mi fa stranissimo avere il casco da motard, perché con la tesa ti tira indietro quando guidi. Ed è il delirio, perché ti strappa il collo. Però insomma mi dovrò abituare. È anche giusto così. E poi mi hanno mandato un loro zaino, che è quello che avevo addosso nell'ultimo video. Non so se l'avete visto. Vi lascerò comunque tutti i link per acquistare le cose in descrizione. Ok, direi che con la 400 ci siamo. 600! Per fortuna se lavori il culo grosso è quello iniziale, ovvero per togliere le righe iniziali. E poi quando passo da una carta vetra all'altra diciamo che è una cosa piuttosto rapida. Nel senso, una volta che hai rimosso tutte le righe della carta precedente, puoi passare poi alla successiva. E non ci metti tanto. Dovremmo esserci con la 600. Guardate già come viene meglio. Very good. 800! Dove cavolo sai? 800! 800! 1000! 800! 400! 1000! 1000! Mi lascio un paio, so. Non ce n'è neanche uno. Ah, 800! Ok. Dovremmo esserci con la 800. Ora passiamo alla 1000. Ok. Ultima carta vetra e poi vi faccio vedere quanto ne è valsa la pena. Allora, 1200. Ok. Ragazzi, è il momento. Allora, questa qua è la pasta che vi ho fatto vedere prima. Si chiama Yosso. Pasta per lucidare. E... Anche qua. La mettete sul telaio. Allora... Allora... Poi, se proprio volete strafare, esiste questa cosa qua, si chiama Silvo. È l'ex Dura Glit. Non so se ne avete mai sentito parlare. Soprattutto chi ha un Aprilia RS. È il tipico lucidante per il telaio. E fa veramente miracoli sui telaio. Che sono già lucidi di loro, ma che poi si opacizzano. Ci potete passare questo. Finché non diventa opaco. Diciamo che vi spaventate di tutto. Oddio, sta venendo malissimo. Invece no. Diventa così. E voi ce lo lasciate asciugare sopra. Poi, una volta che avete raggiunto questo tipo di finitura, prendete uno scottex e ce lo passate finché non si rimuove del tutto la patina che si è creata. e il risultato è sorprendente. Questo qui è il risultato finale. Se vi è piaciuto mettetevi un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao bellezze! Ciao a tutti ragazzi! Oggi vi faccio l'unboxing di 24MX che avevo già registrato ma ho messo mal la GoPro quindi nei 170 gradi della GoPro non ho ovviamente ripreso quello che devo starci. Niente, sarò rapida. Allora, la prima cosa che mi hanno mandato è stato questo zaino e è uno zaino che costa sui 20€ è un prezzo molto accessibile ed è fatto veramente bene lo sto usando da almeno due settimane ci vado in università ed è molto molto comodo. È impermeabile è duro quindi vi fa quasi da pera schiena e ha due agganci uno qui e uno qui e la cosa figa è che ha la chiusura qua dentro quindi è quasi antischippo diciamo è molto difficile che vi rubino da una tasca che ha attaccato la vostra schiena. All'interno è estremamente spazioso questa tasca è proprio perfetta per metterci il computer almeno il mio è un Surface e ci sta proprio perfetto ha tutte queste belle taschine in cui potete mettere carichini vari batterie della GoPro tutto quello che vi può servire per giri in moto e qui ci sta spaziosamente tutto quello che volete metterci che sia una bottiglia d'acqua la macchina autografica una felpa quello che volete per ora mi sono trovata molto bene la qualità è ottima è proprio uno zaino fatto bene e lo consiglierei veramente a tutti è il perfetto zaino da moto e costando 20 euro è super abbordabile da tutti quindi è proprio perfetto è la cosa che vi raccomanderai di prendere di più da quel sito è proprio un ottimo oggetto qua addirittura è catarifrangente quindi di notte vi vedono mi raccomando se lo comprate utilizzate il mio link qua sotto così il sito sa che l'avete scoperto tramite il mio canale quindi mi fate un favore la seconda cosa che volevo mostrarvi di 24 makes è questa mascherina della Raven viene sui 24 euro è di ottima fattura addirittura qua sotto ha del silicone per tenerlo attaccato poi al casco per far aderire meglio la la stoffa della cinghia è fatta molto bene la la lente è intercambiabile al inizio c'era montata questa che però ho cambiato anche solo per vedere se era di facile smontaggio e devo dire che non è una cosa molto complicata per quanto riguarda la gomma piuma interna anche questa è di ottima qualità quindi per 24 euro è veramente una buonissima mascherina almeno per ora io mi sono trovata bene per quanto riguarda il cavalletto non ve lo posso mostrare perché c'è sopra la moto e l'unica pecca diciamo è che è un cavalletto da cross quindi per i motard è troppo alto anche al minimo e per metterci la moto sopra l'ho dovuta sollevare e il leveraggio per alzarlo è piuttosto duro quindi io che sono piccina facciamo molto molta fatica anche salendoci con tutto il peso però fa il suo dovere la moto è perfettamente stabile quindi direi che quello è l'importante per quanto riguarda invece il resto sarò rapida ma ho qualche piccolo spoiler da farvi ovvero il primo è che mi hanno inviato questa fotocamera è una fotocamera che si chiama 4K viene sui 60 euro è molto simile la gopro e la sto testando quindi vi farò sapere come mi trovo se ne vale la pena se è una buona action camera per cominciare anche perché è molto più economica della gopro seconda cosa che mi è arrivata oggi è la sella della romix finito sono contentissima è bellissima l'ho anche fatta abbassare perché sono una nana paurosa e è veramente bella anti scivolo e il tappezziera ha fatto un ottimo lavoro quindi niente non vedo l'ora di vederla montata ultima cosa mi è arrivato il silenziatore di Aliexpress è una cosa che ha creato abbastanza di battito nel senso che è uno scarico cinese e c'è chi dice che all'interno al posto della lana di vetro può contenere del cartone quindi rischia di prendere fuoco ad altre temperature eccetera devo dire che per ora mi sembra di ottima qualità sia dalle saldature che sono fatte estremamente bene il fondello è in carbonio ha un db killer ottimo questa staffa è spostabile quindi si può regolare su qualsiasi tipo di moto è universale ha il diametro del collettore da 50 mm quindi si adatta su quasi tutte le moto e mi sembra fatto di ottimi materiali quindi lo proveremo poi non appena finisco di montare la moto e vi farò sapere tutto quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao